La vista dei cani è un argomento affascinante e ricco di sfumature che può influenzare notevolmente il loro comportamento e la percezione del mondo circostante. In questo articolo esploreremo i colori che i cani vedono e in che modo questa particolare visione influisce sulle loro interazioni quotidiane. Se desideri continuare a scoprire segreti e curiosità sul mondo dei cani, ti invitiamo ad iscriverti al canale Zampa TV per rimanere aggiornato sulle ultime novità e approfondimenti. Nel nostro video offriremo preziosi suggerimenti per favorire la salute visiva dei cani fornendo consigli pratici e informazioni utili per ottimizzare il loro benessere visivo. Inoltre, per approfondire ulteriormente l'argomento e per scoprire alcuni tra i migliori integratori per la vista disponibili sul mercato, metteremo a disposizione dei link utili nella descrizione del video. Resta con noi per esplorare insieme come prendersi cura della salute visiva dei nostri fedeli amici pelosi. I cani, con la loro visione unica e particolare, offrono uno sguardo affascinante sul mondo circostante, nel quale i colori giocano un ruolo chiave. Rispetto all'ampia gamma cromatica che gli esseri umani possono vedere, i cani sono parzialmente daltonici e vedono il mondo in modo più limitato, concentrando la loro sensibilità su tonalità di blu, giallo e grigio. Questa peculiarità della visione dei cani ha radici nella fisiologia dei loro occhi. I cani possiedono un minor numero di coni rispetto agli esseri umani, la cui funzione è quella di percepire i colori. Di conseguenza, la loro visione dei colori è meno vivida e definita rispetto alla nostra. I cani apprezzano maggiormente le sfumature di blu, giallo e grigio, mentre i colori come il rosso e il verde appaiono più sbiaditi e simili al grigio per loro. Questa prospettiva cromatica influenza profondamente la percezione dei cani dell'ambiente che li circonda e guida le loro reazioni e comportamenti. Ad esempio, i colori più vividi, come il blu e il giallo, possono essere più facilmente distinguibili per i cani, mentre i colori più tenui possono fondersi insieme, creando un panorama visivo più sfumato e meno definito. È importante considerare come la visione dei cani influenzi le loro interazioni quotidiane. Ad esempio, giocattoli o accessori colorati in tonalità di blu o giallo potrebbero catturare meglio l'attenzione dei cani rispetto ai colori più smorzati. Inoltre, la comprensione della prospettiva cromatica dei cani può aiutare a creare un ambiente più confortevole e stimolante per loro, favorendo un benessere ottimale e una qualità di vita migliore. Esplorare la visione dei cani e i colori che percepiscono ci permette di avvicinarci ancora di più alla loro esperienza del mondo e di adattare gli ambienti e le interazioni per soddisfare al meglio le loro esigenze visive. Continuare a imparare e apprezzare la visione unica dei cani Ci aiuta a instaurare una connessione più profonda e significativa con loro, arricchendo la nostra comprensione del meraviglioso regno animale in cui viviamo. I cani, con la loro sorprendente capacità di adattamento al buio e di visione notturna, ci offrono uno sguardo straordinario sul loro mondo notturno. La visione notturna superiore dei cani rispetto agli esseri umani è il risultato della presenza di una maggiore quantità di bastoncelli nell'occhio, cellulari sensibili alla luce, che consentono di percepire il mondo circostante in condizioni di scarsa illuminazione. Questo adattamento speciale aiuta i cani a distinguersi come eccellenti predatori notturni, in grado di muoversi con agilità e precisione anche nell'oscurità. I bastoncelli aggiuntivi negli occhi dei cani amplificano la loro capacità di percepimento dei movimenti e delle forme, consentendo loro di individuare prede potenziali o di muoversi con sicurezza anche quando la luce è limitata. Questa visione notturna superiore rappresenta un importante vantaggio evolutivo per i cani, che si sono adattati nel corso dei secoli a cacciare e sopravvivere anche di notte. Grazie alla loro sensibilità alla luce e alla maggiore presenza di bastoncelli nell'occhio, i cani sono in grado di individuare anche i più piccoli movimenti e di percepire dettagli anche in condizioni di luce ridotta. Comprendere questa straordinaria capacità di visione notturna dei cani ci permette di apprezzare appieno le loro abilità sensoriali e di rispettare la complessità del loro mondo visivo. Questo adattamento unico li porta ad avere una prospettiva diversa della notte rispetto agli esseri umani, offrendo loro una guida preziosa nel loro ambiente e nelle loro attività notturne. La visione notturna eccellente dei cani è una testimonianza dell'adattamento evolutivo e delle straordinarie abilità sensoriali di questi meravigliosi animali. Continuare a esplorare e ad approfondire la visione notturna dei cani Ci permette di avvicinarci ancora di più alla loro esperienza del mondo e di apprezzare la bellezza e la complessità del loro ambiente notturno. Per garantire il benessere visivo dei nostri amici a quattro zampe, possiamo adottare strategie mirate ad ottimizzare l'ambiente visivo in cui vivono. Oltre ai suggerimenti già menzionati, un aspetto cruciale è l'integrazione dell'alimentazione con specifici integratori per cani dedicati al supporto della salute visiva. L'aggiunta ad integratori formulati per la salute degli occhi alla dieta quotidiana dei cani può essere estremamente vantaggiosa per preservarne la capacità visiva nel tempo. Gli integratori ricchi di antiossidanti come la vitamina A, la vitamina C, la luteina e gilli acidi grassi omega 3 contribuiscono a proteggere la salute degli occhi, favorire una visione nitida e contrastare potenziali problemi legati all'età. Un'alimentazione bilanciata arricchita con integratori per la salute visiva può aiutare a prevenire disturbi oculari comuni, migliorare la qualità della vista e sostenere il benessere generale degli occhi dei nostri amici pelosi. Questa integrazione può risultare particolarmente benefica per cani anziani o per razze predisposte a specifiche patologie oculari. Ecco alcuni consigli per ottimizzare l'ambiente visivo dei cani, includendo l'integrazione con ghili integratori per la vista che trovate nel link in descrizione. Utilizzare giocattoli e accessori colorati visibili ai cani, evitare brusche variazioni di luminosità nell'ambiente, assicurare che le aree frequentate dai cani siano ben illuminate, offrire riparo e protezione dalla luce diretta, soprattutto nelle giornate soleggiate, monitorare segnali di disagio visivo e consultare un veterinario in caso di problematiche oculare. Ottimizzare l'ambiente visivo dei cani non solo promuove il loro comfort, ma li aiuta anche a vivere una vita più serena e armoniosa. Integrare l'alimentazione con gli opportuni integratori per la salute visiva è una dimostrazione di premura nei confronti della salute visiva dei nostri affettuosi compagni. Per scoprire alcuni tra i migliori integratori per la vista disponibili, ti invito a visitare il link in descrizione. La percezione del movimento e degli oggetti da parte dei cani rappresenta una delle caratteristiche più straordinarie della loro visione. Grazie alla maggiore presenza di bastoncelli rispetto ai coni nell'occhio dei cani, essi sono estremamente sensibili ai cambiamenti e ai movimenti rapidi nell'ambiente circostante. I bastoncelli sono cellule sensibili alla luce che giocano un ruolo fondamentale nella percezione del movimento e nella visione notturna. La maggiore quantità di bastoncelli negli occhi dei cani rispetto ai coni consente loro di rilevare dettagli sottili e di individuare anche i movimenti più rapidi con precisione e prontezza. Questa capacità innata di percepire il movimento e gli oggetti in maniera così acuta rende i cani eccellenti nel seguire prede durante la caccia o nel reagire prontamente a stimoli esterni. Grazie alla loro sensibilità al movimento, i cani possono distinguere rapidamente le variazioni nell'ambiente circostante, garantendosi una reattività superiore e una capacità di adattamento veloce. Questa caratteristica della visione dei cani è essenziale per comprendere il loro comportamento e le loro interazioni con il mondo circostante. La loro abilità nel rilevare cambiamenti e movimenti veloci contribuisce al loro successo come predatori e alla loro capacità di percepire minacce potenziali, garantendo una sopravvivenza ottimale e una maggiore consapevolezza dell'ambiente che li circonda. La sensibilità al movimento e agli oggetti da parte dei cani rappresenta un aspetto straordinario della loro visione, che riflette la complessità e l'efficacia dei loro meccanismi sensoriali. Approfondire questa peculiare capacità dei cani ci permette di apprezzare ancora di più le loro straordinarie abilità e di avvicinarci con maggiore rispetto e comprensione al loro mondo visivo unico. I colori hanno un'influenza significativa sulla psicologia e sul comportamento dei cani, offrendo una prospettiva interessante sul modo in cui il mondo visivo influisce sulla loro esperienza emotiva e comportamentale. La capacità dei cani di percepire i colori in una gamma limitata influenza non solo la loro visione dell'ambiente circostante, ma anche il loro stato d'animo e le loro reazioni. Il blu, con le sue sfumature tranquille e rilassanti, è spesso associato a sensazioni di calma e serenità. Questo colore può avere un effetto lenitivo sui cani, contribuendo a creare un ambiente pacifico e rilassante per loro. Un'esposizione a tonalità blu può favorire uno stato d'animo tranquillo e positivo nei cani, aiutandoli a sentirsi sicuri e al sicuro. Al contrario, il rosso, con la sua intensità e vitalità, è spesso associato a emozioni più forti e stimolanti. Questo colore può suscitare reazioni più vigorose e attive nei cani, stimolando la loro energia e la loro vivacità. Tonalità di rosso possono essere utilizzate per incoraggiare l'attività e l'interazione, creando un ambiente dinamico e coinvolgente per i cani. Comprendere come i colori influenzano il comportamento e lo stato d'animo dei cani è fondamentale per creare ambienti positivi e confortevoli per loro. Utilizzare colori appropriati in contesti specifici, come ad esempio tonalità rilassanti in aree destinate al riposo o tonalità stimolanti in aree di gioco, può contribuire a modulare le emozioni e le risposte comportamentali dei cani in modo positivo. L'influenza dei colori sulla psicologia e sul comportamento dei cani offre uno spunto interessante per migliorare il loro benessere e la loro qualità di vita. Comprendere come i cani percepiscono i colori e reagiscono ad essi. Ci permette di creare ambienti armoniosi e gratificanti per loro, garantendo un equilibrio emotivo e comportamentale ottimale. Continuare a esplorare questa interazione unica, tra visione e stato d'animo, dei cani. Ci aiuta a sviluppare una connessione più profonda e significativa con i nostri fedeli amici a quattro zampe. La visione dei cani è un aspetto fondamentale da considerare per comprendere appieno il loro mondo e offrire loro un ambiente confortevole e stimolante. Le sfumature cromatiche che i cani percepiscono e il modo in cui influenzano il loro comportamento sono un fascinoso campo di studio che ci permette di avvicinarci ancora di più ai nostri fedeli amici a quattro zampe. Continuare a esplorare e approfondire la visione dei cani. Ci aiuta a instaurare una connessione profonda e significativa con loro, portando gioia e benessere reciproci.